Sono finiti in carcere stamattina due cugini seracusani accusati insieme ad un terzo complice non ancora identificato di aver fatto esplodere la notte del 5 febbraio scorso una bomba in un noto esercizio commerciale a Santa Teresa Riva. Ad inchiodare gli indagati di 43 e 28 anni sono state le riprese video passate al vaglio dei carabinieri di Tormina e della stazione di Santa Teresa Riva, coordinati dal sostituto procuratore Marco Accolla. L'attività investigativa, che si avvalsa anche di intercettazioni telefoniche ed ambientali, ha permesso di delineare il momento del delitto scaturito dal profondo rancore nutrito dal mandante nei confronti del proprietario dell'esercizio commerciale. Le indagini hanno permesso di appurare attraverso la visione delle immagini riprese dalla videosorveglianza di un'attività commerciale adiacente al negozio oggetto dell'esplosione che l'ordigno era stato collocato da due uomini giunti a bordo di un'auto Nissan Micra di colore bianco che proveniva dalla direzione Messina Catania. Le telecamere hanno immortalato i due soggetti che hanno parcheggiato il mezzo lungo l'adiacente via Leandro e sono scesi dal veicolo prelevando una busta. L'uomo che viaggiava sul lato passeggero col volto travisato ha preso il contenuto ed è corso verso il negozio posizionando l'ordigno nei pressi della vetrina, innescando poi la miccia. Quindi è tornato di corsa verso l'autovettura dove il complice che lo attendeva è partito immediatamente in direzione Catania. Lo scoppio, accompagnato da un assordante boato, oltre a disintegrare la vetrina dell'esercizio commerciale, ha danneggiato le auto parcheggiate nelle vicinanze, numerose altre vetrine poste lungo via Regina Margherita di Santa Teresa Riva e persino alcune facciate di palazzi. Le indagini hanno fatto emergere che l'auto era munita di sistema GPS collegato al contratto assicurativo, pertanto sono stati acquisiti i dati di posizionamento dell'auto registrati dal sistema di localizzazione. Le intercettazioni telefoniche hanno fatto il resto, promettendo anche di ricostruire il movente, evidenziando che il mandante del delitto, titolare di negozi dello stesso marchio, sito in provincia di Catania e Siracusa, covasse rancore nei confronti del collega di Santa Teresa Riva, che fungeva anche da capoarea per la Sicilia.